buongiorno amici buon martedì dato che come sempre sono meteoropatica fuori brutto tempo mi sono svegliata un po un po così di brutto umore però comunque oggi in ordine cronologico devo andarmi a fare le unghie andare in palestra creare alcuni contenuti per lavoro e sistemare casa come sempre oggi sono nostalgica metto cantoni un po più vecchie unghiette finite bellissime ho lasciato la stessa lunghezza le ho fatte leggermente più a punta base rosata e con i glitter sopra molto carine buon appetito finito di fare tutte le cose di lavoro finalmente ragà tra una cosa e l'altra mi sono fatte le 18 e 34 cioè veramente non te ne rendi nemmeno conto che il tempo vola ah mi sono dimenticata di dirvi questo dettaglio questa mattina domani parto per andare a Milano devo stare fuori tre giorni quindi devo fare anche la valigia prima però ho bisogno di fare una doccia potente buonissimo questi prodotti non li metto per niente a posto li metto direttamente in valigia il momento finito di fare la valigia l'ho anche chiusa ma già so che entro domani mattina la riprerò a 100 volte perché sicuro mi sono dimenticata qualcosa buon appetito buon appetito buon appetito